ciao a tutti ragazzi sono artifex benvenuti scuola esplos un inizio un po' morire un po' movimentato della rinnovata e sono stati che scrive l'opera ok ma poi infatti che io lago non capisco niente di quello che succede eh sì ragazzi e che è iniziato questo episodio un po' o movimentato mi decadero addosso perché c'è distrutto la cesta questo sono non ho messo nulla di dentro questo è il problema ce l'hai una foto di xd la spada si è nella cesta e perchè una l'hai perso forse il manufatto l'abbiamo perso ma no e dovremmo vedere questo super buco gigante e' il ferro è preso e' si ma questo modo di sono morto un'altra volta e' la città sta la cesta guarda che sono solo 12 pezzi comunque nel senso e' un altro ragno oh e' quel po' l'entrato dentro casa oddio uno spazio cioè quando uno poi non li vuole è entrato un altro ragno aia basta ma che cazzo e' ma fai giorno porca miseria c'è distrutto pure l'altra cesta si vabbè è morto pure il polo ma è rimasto solo il petto di polo qua un altro ragno 2 il cos'è sta storia no la bella c'è un aiutato asca un pochetto però è così un po' più grande e' un po' se ti volo passassi come si lo sto abbassando se lo è grazie grido che mi dà una spada no amato qualcosa qualsiasi cosa ti posso dare un altro e' si quella mi piace molto xd xd anche perchè forse è più fermati però sei ripresa il ferro si ce l'ho si perchè sennò era finito sta entrando l'ondo creeper ti sei rossi ma che cazzo me? io l'ago pure ma porca miseria ti eri fermato attento sento ad altra gente l'ho visto ho un cuore un cuore me ne scende in caverna e' chiudo addio ore io ho un cuore e' quanti voi ne ce ne scusi come trovo il tempo del creeper e' lo scherzo ok ucciso tutti ma scusa ma non potremmo facciare la casa dietro a cascata ah vabbè perchè degli zombie che tipo sai che stanno entrando zombie dentro casa nostra che cascano del bug non ho dato ecco l'ho notato dov'è entrare su oddio quello si prenda la spada lo zombie ti entro per poco ma basta che cos'è c'è c'è c'hanno rovinato tutta la mappa muove in cazzo però basta ho scusa abitudine ok basta è finita è giorno è giorno tranquillo è finita eh si è finita eh si è finita ok ok io cerco di riaggiustare la collinetta fuori ok io cerco di fare dentro mi e' finita pure ma va e' la prima registrazione con UBS ragazzi ok c'è si sta quasi rompendo anche la spada ok ho fatto quasi ma anche gli enderman no basta su serio perchè sei un bastardo perchè sei un bastardo diciamo ma perchè c'ho una leva se rompevi la tn e' la cosa non c'è volvo ok 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 ahahah 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 eh no ha detto già che ci siamo c'è pure una dnt no guarda l'anzio ora la cascata non si chiede più palle vado a chiudere io da fuori oh sei un vandalo però che fatto ho sbagliato ho colpito un enderman non l'ho fatto apposta però no non l'hai fatto un po' voglio spiegare che non l'hai fatto l'ho fatto apposta ecco lo sento anche il ruggire è finita però dai nessuno ci potrà più attaccare fate qualche altra tnt volante era l'ultima tnt cioè era la prima e l'ultima più che altro io chiedo da sopra mi ero rivolto con tant'amore e dedizione finchè però la leva l'ho ripresa in qualche strano modo l'ho ripresa ok ok sei che dobbiamo fare una via d'uscita eh si farla prendi tipo una trap fa più insomma un attimo prima pensiamo al tetto è stato molto brutto questa notte è stata la vera prima notte del gioco che già non mi è piaciuto oh perfetto ah comunque siamo sicuri che non possiamo togliere la lana a quella pecora e io non so come gli ricresce se gliela tagli ah vero perchè non c'è erba alle pecore piace l'erba vabbè mettiamole eh ah eh il matore ok abbastanza figo di nuovo eh troppo allora rientro dentro casa beh credo che sì più o meno bene o male faccio un'entrata qua goccia del soffitto mamma mia anche a caso di geppetto goccia del soffitto perfetto ho fatto spazio camino eh attenzione spazio camino cammino ehi ammazza cammino di terra qualche torcettino in più qua dentro eh perchè sennò finisce male eh le ceste non ce ne abbiamo più nessuna perchè ne abbiamo una e il ferro ce l'ho io perfetto perfetto ok io ho pensato aereo perso abbiamo perso pure tutta la m che un'altra un'altra cosa che abbiamo perso sì credito eh beh pure questo abbiamo perso tutto eh sì no un sacco di terra oppure l'ho usato tutta per scappare no c'è cazzo eh qui c'è ancora l'acqua eh qui c'oro eh infatti mi metto a coesire il eh so prendendo la cobblestone per quello la cobblestone la cobblestone eh che te la prendi te vabbè tanto vale tanto eh il carbone lo sta ce l'ho io almeno quello eh no la la crafting che che ah si fa buone eh la crafting table l'abbiamo persa la crafting eh ah no ce l'ho io ombra e si lascia anche una cesta così con tanto per la trappe di cesta come se non bastasse ok eeeh fai una fornace appunto coesce perfetto ecco io mi vado da suicidò ciao ciao aspetta vediamo che cosa c'è qui fuori allora eh vabbè oh diamanti dove eh tipo nel culo dell'altra isola in proprio in tutti i sensi oh 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 no 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 ultimo sarà impossibile arrivare in quei posti perchè sono invisibile perchè perchè non mi muovo cazzo no dove sei ok faccio una ma ma no ma che sapesse ma che ma perché sei in un blocco eh ma io ti vedo in un blocco che ti spunta la faccia dalla stone oddio non puoi capire quindi sembra tipo i giochi di di eh scusa guarda la forma di una porta precisa però mi racconta è sempre buona qualcosa oh qui invece eh ai coble ai ombles c'è tutto nella cesta in caso c'è l'ho della cesta vabbè faccio un piccone in ferro ah si serve serve dopo tenis e che tu riempi l'acqua riempi l'acqua attenzione ah si si sicuro prendo l'oro eh ragazzi tipo noi non abbiamo mai mai letto gli obiettivi quindi non sappiamo se abbiamo completato il costumente tipo 65 obiettivi lungo possibile ma sicuramente poi lo vedremo eh che fatto ok e prendo anche la la headstone ci sono della pespapoli qua sotto la pespapoli c'è un'altra c'è un'altra caverna qua fa proprio caverna è la caverna di batto ah questa è in base oh mamma mia quanto ferro ok eh il ferro non era un problema quindi evidentemente però se non spreco il piccone in ferro si dovrebbe essere meglio la hobleston la hobleston lo sta la hobleston non lo so io ce l'ho un po' sì mi sa che ormai comunque come casa rimarrà il buco che abbiamo fatto vai lì a prendere altre robe questa d'acqua si può pure doggio no tanto mi sembrava anzi no scusa no 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 non chiuderla facciamo una fonte infinita nooo sei un mostro 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 ok ok allora lascia così vado di sopra faccio una fonte infinita aspetta la fai dentro casa tanto sono un fucking pro non ho trovato oh oddio ho trovato la fine del mondo fortunatamente ero shift eri stato shiftato da chi dalla fine del mondo fra poco the brand no come no eh quella è dura ora ti capisco cosa eh non lo so la mia no non lo so la mini un stop eh esatto quelle due eh vabbè posso tutte beh certo con l'inertson che è fatta con stone e ferro insomma è chiaro che è normale che sia dura qualsiasi divertiamoci facciamo una bella passeggiata qua fuori eh eh ok metto qua c'è anche a poco eh sì è fatto la fonte d'acqua infinita che poi comunque c'era la sopra sicuro 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 è sicuro ok sì l'ho fatta eh scusate ragazzi se non vedete menti oh chi era non lo so ho trovato la rifine del mondo orc sta pure qua oddio sì la c'era oro di qua oh l'ho trovato oddio ok un'altra fine del mondo oddio ma da qua si vede la casetta guardamene da qua tu sei? ah ah si vede la casettina e come c'è stato ah scusa mettiamo l'acqua ma ci si può arrivare là sotto e magari facciamo un ponteggio tipo tipo in corrispondenza dove sta in corrispondenza sport si pensa dove spavere eh no no scusano più no 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 però ho trovato lo stesso la fine del mondo beh sentire beh sì più o meno c'è ragione sì perfetto ci sono quasi sopra vedro e allora basta buttare l'acqua aspetta 26 qua io posso tutte le cose 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 non vengono in gloria che sento so eh no comunque da qualsiasi io direi che era una sorta di ponteggio del conto delle robe eh si prendo la terra e magari faccio eh no si quello sto facendo nel senso sto chiudendo tutto in modo che uno non può oddio no eh non spingermi assolutamente perché sto shiftato nel vuoto un attimo ok ho il secchio non abbiamo sapling da ripiazzare WOD vabbè sì poi andiamo ah sì sì comunque c'era un albero della giungla perfetto aspetta un albero della giungla ah no era solo ah ok ho trovato ma è sempre tipo scuta ho preso due due erboscelle quindi non ho problemi in modo eh ah eh ok mini ponteggello e poi acqua quindi torno su col secchio ti torno su col secchio ti torno su col secchio ti torno su col secchio ehm sì eh sono fuori sto morendo quindi fra tipo 15 secondi mi suicido ok ciao allora lascio un co dentro tutte le cose eh sto creando un'altra craffina eh sì vabbè craffina cazzo un'altra cesta che ovviamente farà un effetto bellissimo eh ho spenta la luce WOD senti questo rumore vero ma perchè non so attaccate? ah perchè ho un'altra cesta e metto qua dentro tutte le cose che non mi servono attenzione eh e vado a suicidare con i mob ciao ciao con i mob creeper 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 ok si va che palle perchè devo perdere il secchio ah mi devo suicidare anch'io sono stato tipo vicinissimo alla casetta aspetto devo fare una cosa pazzesca ragazzi un attimo un attimo oh no oh no no ok no mi sembrava un creeper eh chiudi la chiudi l'acqua chiudi la porta chiudi la porta che è rimasta aperta non potevo correre non potevo fare nulla c'entrano tutti i mossi dentro casa oddio che palle m scusa eheh esplose il letto porco 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 entro dentro e chiudi di caverna no 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 esci 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 oh che cos'è non esci di caverna che cos'è tu coprimi un pochino le cape e tu sei è sempre sono entrato in caverna ok eh ragazzi tipo 15 secondi e riuscirò a chiudere tipo tutto 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 si spera oddio non fa le qualsse cose che te censurano allora ok ci son riuscito quasi forse ho chiuso tutto oddio è entrato anche uno zombie così tanto per chiudi qua qua ma sono qua fuori io li tengo fuati io li tengo fuati e morirò per la patria ma no forse in realtà è meglio che entro oddio so fare troppi altri odio eh sono troppo tardi prendi una spada li tengo occupati tutti entra dentro casa prendi una spada oddio c'è un altro creeper dentro casa no non dentro casa per fortuna non dentro casa dove cazzo sta ah ok ti tengo occupati io ti tengo occupati io anzi no no ok troppo tardi ok troppo tardi hm eh c'è una spada non ho paura di usarla forse si muori no mi squira non cuore nooo hai finito hai chiuso questa merda si non usciamo mai più oh please stop prendi secchio d'acqua ma che lo prendo io ci catapultiamo direttamente verso l'altra isola eh no però prendi un po' di terra perchè devi fare un ponte ok scendi giù vieni qui con me io ti qui sei no sai che ci strozia ci soffochiamo soffochiamo mentre risaliamo poi per risalire soffochiamo eh no basta che lo fai a filo guarda guarda che ti senti no aspetta dove sei però eh li e non so dove oddio ma guarda la bene si scende ah ecco guarda lassù ma sai che ci casca qualche modbo sopra secondo me mentre sono guarda lassù oh mio dio oddio c'è un creeper sospeso nulla e più che altro la guarda viene più vicino qua vedi quella specie di stella quella camera ah si si quella si l'ho già vista si sta scendendo si si va si va tappan 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 nooo che sono quelli e allora ragazzi prima che prima che scendiamo vi saluto ci vediamo nel prossimo episodio iscrivetevi nel clare di prendo quello non lo este fatto e ci vediamo nel prossimo video il terzo episodio completo quindi ciò ciò Grazie.